solamente pochi giorni fa carina cascella aveva dato l'addio alla tv per dedicarsi alla sua attività oggi ci ha ripensato il nuovo annuncio carina cascella solamente pochi giorni fa aveva detto che avrebbe lasciato la tv per dedicarsi completamente alla sua nuova attività da quasi un anno ha aperto un ristorante di specialità argentine in questo difficile periodo per la ristorazione ha preso questa decisione dunque dopo aver partecipato a vero amore aver vinto la talpa essere stata opinionista per tanti anni di uomini e donne e poi di tutti i programmi di barbara d'urso aveva optato per una pausa decisione che però è già cambiata dopo alcuni giorni dalla scelta che aveva creato un certo clamore sui social carina è intervenuta con un altro annuncio per dire che sarà presente in un nuovo programma televisivo ma ecco qui di seguito tutti i dettagli insomma dopo aver detto solamente la settimana scorsa che non sarebbe tornata in tv per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività ecco che i programmi dell'ex opinionista sono cambiati poco fa infatti è intervenuta sui social per dare un annuncio ecco le sue parole parteciperò ad un programma televisivo come ospite per una puntata molto molto carino non è un programma solito è una cosa un po insolita su italia 1 dunque il programma a cui prenderà parte carina è un nuovo programma di italia 1 ma lei ha aggiunto altri dettagli eccoli io dovrò fare una cosa non posso svelare niente registriamo tra qualche giorno e ho anche un po paura per quello che andrò a fare chi la segue da tanto tempo sta provando ad ipotizzare che cosa sia in base alle sue paure secondo alcuni siti di gossip può trattarsi del nuovo programma di nicola savino ma non rimane che attendere per saperne di più ma non rimane che attendere per saperne di più Lixons' Image Creating Worlds to Life in Netflix Film Sous-titrage ST' 501